Ho la voglia, dico ma veramente la voglia di presentarvi un grande duo, hanno girato tutto il mondo, hanno battuto tutte le strade, eccoli qua per voi, Otto e Barnelli alla Teletombola! Otto e Barnelli, eccoli qua alla Teletombola con immenso bambino! Adesso cominciamo a stabilire, visto che è stato il primo estratto, chi è otto di voi due che non l'ho ancora capito? Tu sei otto, non facciamo gli scherzi, tu sei otto e tu sei Barnelli, Otto e Barnelli ospiti da noi! Voi, mi consentite uno slogan? Preto! Hanno così decretato l'apertura della prima quintina! Un momento di serietà però a questo punto, voi siete dei grandi personaggi! E soprattutto, siete un'orchestra ambulante! Per esempio, tutte queste cosine che avete qui di fronte, tipo cos'è un amplificatore? In qualche modo mi devo anche regolare, no? In che senso? Lo faccio qui, volume! Ah, pensavo seguisse la dieta! Se faccio così... Hai capito? Ma lo sta facendo lui però, mi state prendendo in giro! Ho capito questa storia! Sì, mentre invece queste... Ma che sono delle... Sono le corne... No, non so, sembra Maracas! Sono! Ah, sono Maracas! Ma davvero! Otto e Barnelli, Barnelli e Otto, sentiamo...